Sono Rin, io ho la pentola, andiamo in cucina! Cosa sono sti cosi rossi? Non lo so, sono melanzane. Rosse? Eh, sono le melanzane del samurai. Ma il samurai ha le melanzane rosse. Io te l'avevo detto, ma guarda, è un preservativo in mano. Sì, lo so, non è un preservativo, è una cipolla. Ah, ma non male, cos'è una cipolla? Io ce le banane, vado a fare un piatto speciale. Cosa cucini? Non parlo. Io cucino. Io reggo, ma che voglio cucinare? Che buono, ma cos'era? Proviamo che cos'altro. Ecco l'uovo! Ecco l'uovo! Mangiamo! Cosa? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Gì! Cosa cosa c'è? Grazie.